da lunedì la televisione comincia a mezzogiorno con pronto raffaella la popolare raffa riaprirà la sua casa e riceverà ospiti illustri e sconosciuti e soprattutto aspetterà le vostre telefonate giocherà con voi mettendo in palio tantissimi premi il numero di telefono di casa carrà è sempre lo stesso 0 6 3 1 3 9 giornate grigie il sole già mi scalda la pelle voglio volare via dolce ma niente con la mano nella mano dolce ma niente come un film americano raffaella carravi aspetta da lunedì a venerdì alle 12 e 05 su rai 1